Ciao a tutti, sono Arcangelo Pisano e sono una guida turistica della regione Campania. Essendo laureato in economia del turismo mi piace raccontare il territorio facendo conoscere chi in quel territorio ci lavora. La maggior parte dei miei itinerari sono dei walking tour, quindi oltre a illustrare il singolo monumento mi piace mostrare il lavoro svolto nelle botteghe storiche, nelle cantine, nei negozi di artigianato. I miei tour possono essere sia classici come per esempio poter raccontare un museo ma anche itinerari insoliti come delle passeggiate all'interno di un quartiere o visite a palazzi storici. Vi invito a seguirmi sulle mie pagine social, vi aspetto numerosi e grazie.